Numero 6. Il tappetino per addominali in schiuma NBR è la scelta perfetta per un allenamento efficace e sicuro. Realizzato con un materiale resistente e certificato dalla SGS, questo tappetino offre un sostegno ideale per eseguire esercizi a terra senza preoccupazioni per le articolazioni. La sua superficie antiscivolo garantisce stabilità e libertà di movimento, rendendo possibile una varietà di esercizi per un allenamento completo. Inoltre, il fatto che sia privo di futalati e metalli pesanti lo rende sicuro per la salute e l'ambiente. Un must have per chi vuole ottenere un ventre piatto e tonico in modo semplice ed efficace. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 5. Questa attrezzatura fitness è arrivata e sta facendo impazzire tutti coloro che vogliono tenersi in forma senza dover uscire di casa. Parliamo della nuova barra d'allenamento, un prodotto innovativo e di alta qualità che permette di allenarsi comodamente in casa propria. Grazie al suo design salvaspazio, può essere facilmente riposto in un angolo della casa senza occupare troppo spazio. Non solo è leggera, ma anche estremamente stabile, rendendola ideale per eseguire una vasta gamma di esercizi senza problemi. Inoltre, è facilmente smontabile in pochi componenti, rendendola perfetta per essere portata con sé in viaggio. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 4. La sbarra da porta tutto in uno è l'accessorio perfetto per mantenere la forma fisica a casa propria. Con la sua versatilità di utilizzo, è possibile allenare diverse parti del corpo in modo efficace, grazie al suo design che consente esercizi di bicipiti, tricipiti, dorsali e addominali. Inoltre, non è necessario effettuare alcuna installazione complicata, poiché è possibile montarla su qualsiasi telaio di porta grazie alla sua prolunga telescopica. Con una capacità di carico massima di 100 kg, è adatta per persone di diverse stature e offre una presa sicura grazie alla sua imbottitura dell'impugnatura, che riduce l'irritazione ai palmi delle mani. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Questa attrezzatura da palestra per addominali è una vera e propria rivoluzione per chi desidera tonificare questa parte del corpo. Grazie alla sua versatilità, permette di svolgere diversi esercizi mirati per allenare sia gli addominali alti che quelli bassi e obliqui. La struttura metallica è solida e resistente, garantendo stabilità e sicurezza durante gli allenamenti. Inoltre, la superficie imbottita offre un comfort ottimale anche durante gli esercizi più intensi. La possibilità di collocarla in diverse inclinazioni consente di variare l'intensità dell'allenamento e di ottenere risultati visibili in poco tempo. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione. Numero 2. La semplicità del design lo rende adatto a tutti, anche a chi non ha mai fatto esercizio in vita sua. Il suo punto di forza è l'efficacia nel tonificare gli addominali con esercizi mirati e la possibilità di un utilizzo versatile e dinamico. Uno strumento consigliato per chi vuole una pancia piatta e tonica senza dover necessariamente andare in palestra. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Questa meraviglia di ingegneria è perfetta per tutti coloro che vogliono mantenere una forma fisica impeccabile senza dover rinunciare alla comodità di casa propria. Grazie alla sua struttura robusta in acciaio e ai delicati rivestimenti in schiuma, questo attrezzo proteggerà le vostre articolazioni durante gli allenamenti più intensi. L'ergonomico design consente di ripiegare e riporre facilmente l'attrezzo in qualsiasi spazio, rendendolo un alleato perfetto anche per le case più piccole. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. In basso nella descrizione del video trovi il link del video trovi il link del video trovi il